Nome Fabio Alisei Che lavori hai fatto nella vita? Ho consegnato gli elenchi del telefono e ho fatto l'animatore nei villaggi turistici ho fatto il pianista sulle navi ho scaricato casse, ho verniciato case ho rubato i supermercati insomma, roba performante Come e dove hai scoperto il sesso? L'ho scoperto guardando una puntata di Scooby-Doo che avevo tipo tra i 15 e i 16 anni ma più vicino ai 16 e sono rimasto particolarmente eccitato da una scena tra Vilma e l'altra con i capelli rossi che non mi ricordo come si chiama quel vestitino corto viola sono chiuso subito nel bagno di mio nonno Qual è il tuo animale preferito? I boscardini La pazzia più grande che hai fatto per amore? Per amore non l'ho mai fatto pazzia l'ho fatto solo cazzate Hai mai visto un film porno? Ma intendi negli ultimi 5 minuti Prova a doppiare un film porno Buonasera signora sono il ragazzo delle pizze anche se sono le 9 del mattino ed è gennaio io sono nudo in erezione e sto consegnando un calzone perché io ne sono privo Oh! Ma lei come mai è in autoregine? Eh! Si afferma lì eh! Ah! Ah! Il tuo comico preferito è perché? Eh! Jerry Lewis perché mi fa ridere Fammi una risata intelligente Fammi una risata stupida Dimmi uno scioglilingua o una filastrocca Disse la vacca al mulo Oggi ti puzza il culo Dimmelo come lo direbbe il gladiatore Disse la vacca al mulo Oggi ci puzza il culo! Doraemon Disse la vacca al mulo Oggi ci puzza il culo Un serial killer Disse la vacca al mulo Oggi ti puzza il culo Robert De Niro Disse la vacca al mulo Oggi ti puzza il culo Fai un pesce Una mosca Salutaci con un insegnamento di vita Fatti i cazzi tuoi belinone!